L'originale mix, Francesco Totti e Roberto Mancini, i protagonisti. Maria Lantiani. Totti resta Totti anche con un racchettone. La stoffa del campione l'ha dimostrata pure sul campo di Paddle. Ieri in coppia con Giovanni Malagò ha partecipato al Gillette Paddle VIP Cup di Sabauria e come sempre è stato l'ospite più atteso. Sono di fossa di Totti, sono venuta apposta. Vivo a Roma e non riesco mai a vederlo. Adesso a Sabauria finalmente lo vedo. Totti è il più grande, è il numero uno in tutto. Vederli in un contesto diverso da quello del campo verde da calcio è sempre simpatico, no? A colpi di pallonetto, recuperi e vetro, Totti e Maragò hanno dato filo da torcere alla coppia formata da Roberto Mancini e Gigi Di Biaggio. Una sfida tra big e per solidarietà che ha portato tanti turisti sul litorale pontino. Sabauria a casa. E Sabauria apre le porte anche a GT della nazionale italiana calcio. Bellissima, prima volta che vengono a Sabauria. Bellissima, il sport è molto importante. È molto importante, fa socializzare tutti. È una bellissima cosa che tutti dovrebbero praticare. E lo sport di ieri è stato soprattutto lo spettacolo che ha riunito atleti e celebrità per la Onlus Diverti Tempo che da anni si dedica ai bambini disabili. Un bello spettacolo qui a Sabauria che comunque contribuisce a portare gente, a portare movimento. È una bellissima iniziativa. È una bellissima iniziativa. È una bellissima iniziativa.